Passaggio delle competenze agli uffici comunali per quanto riguarda la gestione dei porti, lo stabilisce il nuovo testo normativo della Regione Campania, discusso e approvato nell'ultimo Consiglio regionale. Ho dovuto mediare in Consiglio regionale perché c'era qualcuno che non era d'accordo, ma poi ce l'abbiamo fatta ed abbiamo approvato il provvedimento, lo dice ai nostri microfoni il Presidente della Commissione Bilancio, Franco Picarone. C'è un'altra cosa importante, me la lasci dire, che pure riguarda il Comune di Agropoli tra gli altri, ed è il decentramento delle funzioni regionali sui porti. Noi, sia concessioni che autorizzazioni, nonché la manutenzione ordinaria, viene decentrata dalla Regione ai comuni che potranno esercitare queste funzioni. Ho lavorato fino in fondo su questo provvedimento che era stato proposto da Lanci insieme al collega Cascone. Ho dovuto un po' lavorare di mediazione in Consiglio regionale perché c'era qualcuno che non era d'accordo e alla fine siamo riusciti a fare un provvedimento che ha tenuto insieme tutto il Consiglio senza spaccatura. Questa cosa, tra le altre, è una cosa che sicuramente va bene per il territorio perché consente anche ai comuni di avere più sotto controllo la situazione, aumentare anche le entrate e soddisfare le esigenze del territorio. Oltre a questo importante provvedimento abbiamo anche approvato la proroga delle concessioni di maniali fino al 31 dicembre 2023 per favorire la destagionalizzazione delle attività balneari. La destagionalizzazione, per esempio, delle attività balneari era scaduta al 31-12 del 2020 e l'abbiamo prorogata fino al 31-12 del 2023, se non sbaglio, e questo consente di poter mantenere installati i manufatti per tutto l'anno. Anche questo è un contributo sia alle attività economiche ma soprattutto all'economia di quelli dei balneatori che possono così ridurre le spese e ampliare il raggio della loro attività.